Oggi, martedì 14 ottobre, si è registrata la nuova puntata del Trono Classico, entrano i tre tronisti poi Maria si rivolge a Gianni, chiedendo chi ci possa essere oggi quale protagonista del Segreto, invece ritorna Tina Sebala che interviene da dietro le quinte per proporre una canzone inedita accompagnata dal ballerino Miguel González, Fiestas, entra in studio e balla mandando baci al pubblico e a Giona S, ma non si tratta di un inedito come fa rilevare Maria facendole rivedere il filmato della sua esibizione e dicendole che il brano sarebbe un hit di una nota showgirl italiana. Si parte dall'esterna di Cinzia con Giona S a base di ritmo latino e, tra un passo di latino e l'altro, la corteggiatrice dà un sensuale bacio a stampo al tronista, Rama dice che lei non è così, ha bisogno dei suoi tempi e da studio qualche altra corteggiatrice giudica l'atteggiamento di Cinzia esagerato per una prima esterna. Fabrizia chiede a Giona S di ballare una salsa ma prima ha un lieve diverbio con Adriana, poi viene mostrato un filmato di Rama che dopo la scorsa puntata con le lacrime agli occhi si sfoga con la redazione rivelando dolorosi dettagli della sua vita passata, spiegando il motivo dei suoi blocchi in puntata. Un'altra corteggiatrice, Serena, non concorda nella decisione di parlare di argomenti privati in trasmissione, Maria fa vedere un ulteriore filmato in cui anche i genitori affidatari di Rama tengono a spiegare chi sia realmente la corteggiatrice non riconoscendola per come si comporta in trasmissione, Giona S, colpito da quanto ha appena sentito, la abbraccia teneramente e lei gli fa anche un omaggio. Nella successiva esterna Serena sorseggiando un frullato al parco dice a Giona S di essere completamente diversa da Rama, giudicata Mosha, ma poi tornati in studio Tina la attacca definendola superficiale e vuota. È la volta di Andrea e la sua esterna con Sharon, lei è visibilmente irritata con lui per quanto accaduto nella precedente puntata e per come si comporta con le altre corteggiatrici, dopo una discussione il tronista chiede di uscire due minuti per riflettere, poi in studio spiega che non gradisce le sue reazioni. Nell'esterna successiva con Maria, Andrea si prodiga in una vendemmia con i piedi in aperta campagna, lei gli racconta del suo precedente fidanzato e scatta il bacio appassionato, vedendo ciò, Sharon scoppia in lacrime e poi non trattenendosi più esce dallo studio. Colpo di scena, Adriana chiede la parola e dice che vuole eliminarsi perché non si sente troppo difesa da Andrea e non approva il fatto che lui porti in esterna Sharon e Maria, tra i due scoppia una discussione e poi lei lascia lo studio su approvazione del tronista. La prima esterna di Teresa è con Vincenzo in notturna, lui le fa indossare le cuffie, le fa ascoltare una canzone di Biagio Antonacci, Tu sei bella e i due si abbracciano, in studio poi Rosy, pubblico, la torna ad attaccare e la tronista le risponde per le rime. Dopo la scorsa puntata Salvatore viene raggiunto da Teresa, lui le spiega il motivo del suo comportamento con lei mostrandole anche delle foto da piccolo e raccontandole della sua famiglia, lei gli dice che il pensiero nei suoi confronti è cambiato. Salvatore, che non era ancora entrato in studio, scende le scale visibilmente arrabbiato tanto da non salutarla, poi dopo una forte discussione in cui la accusa di essersi comportato con sufficienza e di avere delle simpatie per Fabio, lascia lo studio inveendo contro di lei. Gli altri corteggiatori non credono alla buona fede di Salvatore, pensano che abbia cambiato atteggiamento dopo le accuse di essere stato poco presente in puntata, lui rientra e chiarisce meglio il proprio pensiero ricevendo accuse in particolare da Fabio al quale risponde ironicamente, la discussione si accende e Gianni interviene a favore del corteggiatore, poi Salvatore balla con Cinzia e ciò non è gradito da Teresa. Fabio in esterna con Teresa sui quad racconta qualcosa di più di sé e le dà un tenero bacio sul naso. Sharon rientra in studio, ha deciso di andarsene ma prima vuole chiarire con Andrea, lui le dice che se lascia gli dispiace, ma lei imperterrita se ne va. Un ballo finale per placare gli animi conclude la puntata e Salvatore sceglie una dama speciale. Salvatore